Massimo Giannini, direttore Dipartimento Scienze e Tecnologia della Formazione di Tor Vergata. Lotta alla pirateria marittima. Aspetti normativi, strumenti di azione e prevenzione. Sì, innanzitutto buongiorno. Sì, è un'iniziativa che il nostro Dipartimento ha promosso in quanto fortemente interessato anche a gestire corsi di formazione in security, un master in intelligence con i principali corpi dello Stato. Quindi è una tradizione che il nostro Dipartimento ha con i colleghi dei corpi militari. Lotta alla pirateria è un tema molto caldo, ovviamente, che coinvolge aspetti giuridici, economici e quindi ci vede appunto proprio sul pezzo, come si dice, in quanto il nostro Dipartimento ha questa duplice caratteristica economico-giuridica, un tema, come dicevo Caldo, anche per le recenti cronache che sappiamo abbastanza drammatiche, ed è un problema anche di latenti potenzialità di sviluppo per alcuni paesi africani e orientali che anche per colpa della pirateria e del rischio che ne consegue vedono ridotti i flussi commerciali e quindi potenzialità di sviluppo. È un problema antico, come sappiamo, la pirateria è stata anche strumentalmente usata durante gli imperi francesi ed inglesi, ma volutamente proprio per distruggere le rotte commerciali, quindi è un'azione che ha un impatto sulle nazioni molto forti. È un problema di coordinamento, oggettivamente, cioè non può essere delegata a un singolo paese, è un problema che ricopre organismi internazionali, ci devono essere dei trattati, bisogna lavorare su un tavolo di concertazione per questa tipologia di problematica, che poi normalmente si pensa alle grandi rotte commerciali, al cargo, alle recenti, ma in realtà è un problema talmente endemico che colpisce anche il piccolo diportista, perché per esempio anche chi fa il yachting nel corno d'Africa ormai sa che quella zona di fronte alla Somalia è sistematicamente attaccata da pirati somali che quindi derubano la barca, spesso uccidono l'equipaggio purtroppo e sparescono con queste piccole barche e con il carico, tant'è che ormai siccome sono piccole unità e quindi è difficile, non possiamo mettere una fregata o una corvetta a difendere le piccole unità, quindi non hanno difesa queste persone, è nato spontaneamente su internet un sito dove ci si incontra, cioè chi vuole passare per il corno d'Africa di questi diportisti, si dà un appuntamento in modo da passare almeno in 10-15 barche e fare un minimo di difesa personale, perché sanno che ormai quelle acque sono ingestibili. Un piccolo esempio per dire che non è solo la grande rotta commerciale a rischio, ma anche la semplice rotte turistiche, quindi questi paesi rischiano non solo un impatto economico sulle rotte commerciali, ma anche una caduta di turismo dovuto a queste azioni, azioni che poi sono spesso anche motivate con una spolverata di, come dire, culturale, per dire che il pirata somalo è un pirata che afferma il suo essere somalo, quindi al di là del, non lo vede nemmeno come un atto di pirateria, lo vede quasi come un atto di diritto, cioè mi stai invadendo, stai invadendo il mio territorio, tu sei un ricco americano, sei un ricco occidentale, devi pagare tazzo, cioè una specie di gabella che loro vedono praticamente dovuta. E quindi appunto è un problema che vorremmo affrontare, il giorno 24 faremo presso il nostro Ateneo questo seminario internazionale con i principali esperti, proprio per affrontare intorno a un tavolo con competenze giuridico-economiche e anche di intelligence questo fenomeno e speriamo appunto che saremo propositivi su questo.